Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Ho sentito voci cominciate subito dopo la notizia dell'arresto di Messina Denaro. Non c'è stato nemmeno il tempo di ringraziare le forze dell'ordine che già sentivamo di ombre sull'attività investigativa condotta. Ciascuno può fare i commenti che vuole ma le speculazioni devono fermarsi davanti ai fatti. Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia che ha coordinato le indagini sull'arresto del boss intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Facciamo i processi e poi la gente potrà giudicare cos'è accaduto il 16 gennaio quando è stato raggiunto un risultato storico, un successo che lo Stato ha il dovere di rivendicare senza dietrologie e speculazioni, ha concluso De Lucia. Gli investimenti che si stanno realizzando e quelli che sono in programma possono fare della Sicilia e dell'Etna Valley quello che avevamo sempre immaginato, la Silicon Valley europea capace di competere a livello globale. Lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a Catania incontrando i giornalisti al termine di una visita al cantiere dell'impianto integrato Wafersic che ST Microelectronics sta costruendo per la produzione di substrati in carburo di silicio. Oggi si parte, ha concluso Urso, per evidenziare al Paese e all'Europa qual è la scommessa del nostro Paese nel settore dei semiconduttori, che è il futuro anche dell'industria manifatturiera italiana ed è importante che questo avvenga con il pieno sostegno del Governo. La scommessa del nostro mezzogiorno parte proprio da qui, dai parole di Urso. 12 bottiglie incendiarie sono state trovate davanti ad altrettanti esercizi commerciali a Petrosino in provincia di Trapani. È un'incresciosa vicenda che ha toccato la nostra comunità, dice il sindaco Giacomo Anastasi. Non sappiamo ancora se si sia trattato di uno stupido scherzo o qualcosa di ancora più grave, è organizzato il commento del primo cittadino. Il sindaco due giorni fa, assieme ad altri amministratori, aveva partecipato alla manifestazione antimafia a Campobello di Mazzara, pochi passi dal covo dove si nascondeva Messina Denaro prima della cattura. Sul caso indagano attualmente carabinieri e polizia. Dal carcere di Trapani, dove è rinchiuso Ernesto Favara, 63 anni, ex pescatore, arrestato per l'omicidio della moglie Maria Matuzzo, 29 anni, uccisa alla vigilia di Natale del 2022 a Marinella di Selinunte, con 12 coltellate all'addome, ha inviato una lettera al padre della donna che inizia con le parole «perdonami papà». Nella missiva scritta di proprio pugno, Favara cerca di giustificarsi per il delitto commesso e chiede scusa al padre della vittima. Il padre di Maria Matuzzo, tramite il suo legale, fa sapere che non avrà mai alcun sentimento di perdono nei confronti dell'uomo che gli ha portato via così brutalmente la figlia. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Fesh alle ore 16. Grazie a tutti.